stupendo vediamo facciamo tutti i nomi giro cosa hai da dire in proposito di questo scampagnato organizzato all'ultimo momento oh ma diverti io ci sono il milenio cosa hai da dire in proposito ho fatto un'altra affamagnano a me i besti che mi vuole ma ma gliene tu sta visto figlio sono tutti qua ecco osserviamo un monumento un monumento storico che si prende il sole figlio affacciate toalatesi siamo alla privatura vediamo l'acqua ci stiamo disbagliando tutti grazie chiesto davide andone a petto nudo accettando io john rambo 2 la vendetta centro s'epoca s'era chiesto nasce avanti s'era spiega la sentita la ma spiega c'entra non l'alberto l'alberto c'è finila l'alberto la murgata osserviamo federica tutta murgata l'alberto ciao ciao l'alberto 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 ecco tu, questa rampa che ha già Vito! Aaaaaah! Vito scende! C'è ancora acqua! C'è il servito con movie C'è ancora acqua! Non, 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 non Bene, non, non, non Non, 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 non Non, 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 non Ma sono i suoi Questo, quello che le le tratta Non, 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 non Guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Excuse me levati, levati Federica cosa vuoi vincere il gay